E adesso invece volevo appunto presentarvi il lavoro che abbiamo fatto per il Void. Io faccio parte del team prototipazione e in fondo ci sono qui due tipacci che fanno anche parte del team e abbiamo addirittura portato avanti quest'anno due progetti diversi. Questo è un progetto che non è mai stato presentato al pubblico, l'altro invece l'altro anno avevo presentato l'anteprima e poi comunque i due progetti sono andati finiti, realizzati quindi siamo riusciti poi a portare a termine entrambe i prototipi che avevamo pensato. Prototipazione è la direttrice di Void che si occupa di ideazione, scusate perché purtroppo non è... Ok, ideazione, progettazione, insomma di realizzazione di prototipi, che siano sia hardware che software. E abbiamo anche una, diciamo, tecnologia 3D che ci viene anche in aiuto. Il primo progetto si chiamava Smart Home, è un po' pomposa la parola, insomma, è un passaggio, se vogliamo, dalla semplice domotica a qualcosa di più smart, più evoluto. Cos'è una Smart Home? Diciamo che è un'abitazione dove noi andiamo ad applicare delle tecnologie IoT e queste tecnologie sono rivolte a migliorare la sicurezza della casa, sia da un punto di vista, non so, degli incendi, per dire, prevenzione di fuga di gas e questo tipo, che anche sicurezza dal punto di vista delle frazioni. Il comfort e l'efficienza energetica, sono tutti temi molto importanti. Le soluzioni sono complicate perché vedono un apporto di un ventaglio di discipline che devono essere coordinate tra di loro per poi creare la soluzione finale. Quindi abbiamo ingegneria, informatica, elettronica, telecomunicazioni. Dobbiamo parlare anche di architettura perché poi questi dispositivi vanno inseriti in un ambiente domestico. Abbiamo pensato a una struttura di base per poter portare avanti il progetto. In realtà per noi Smart Home, una casa quindi smart, ha un'interazione fra tre elementi principali. Uno è la rete di comunicazione, cioè dobbiamo creare una rete di comunicazione fra tutti i dispositivi. Deve essere veloce, efficiente, possibilmente a basso consumo. Poi l'altra componente sono i sensori e attuatori. Quindi avremo dei sensori nella casa e eventualmente degli attuatori per poter poi agire sulla casa stessa. Quindi c'è una parte di acquisizione di dati tramite i sensori e la parte dove invece andiamo a come dire, attuare le nostre procedure. Ultimo punto, la centrale di automazione. In poche parole ci deve essere un cervello che coordina, legge tutti i dati, invia i dati e gli attuatori e si occupa quindi praticamente di far funzionare poi tutto il sistema. Quindi vista così capite che la struttura è abbastanza complessa. Vediamo cos'è una rete di comunicazione. Per inciso, questo sistema di presentazione è stato fortemente voluto da Sebastiano ed è estremamente standard, cioè in tutte le nostre direttrici noi abbiamo presentato gli argomenti in questo modo, in modo tale che ci sia proprio una omogenizzazione anche nelle nostre presentazioni perché oltre alla mia direttrice ce n'erano diverse altre e abbiamo quindi fatto qualcosa di omogeneo. Rete di comunicazione, io qua vi ho messo un'immagine e poi chi fosse interessato a questa presentazione è fruibile direttamente e gratuitamente, quindi ve la posso tranquillamente passare. Nella rete di comunicazione noi abbiamo un'infrastruttura che realizza l'interazione fra varie entità che compongono la mia smart home. Generalmente l'elito di comunicazione quindi ha bisogno di un router, come anche ormai a casa li abbiamo, non li conosciamo, possiamo avere dei cavi segnale, se servono quindi avere dei cavi qualcosa di fisico oppure possiamo anche avere degli elementi di comunicazione via radio, generalmente wifi, potrebbe essere anche bluetooth, anche la comunicazione l'ora volendo, anche se in casi molto particolari, quindi abbiamo entrambi gli aspetti. I sensori. I sensori sono difficili da utilizzare in maniera opportuna, forse tutto sommato sono l'elemento più critico, l'abbiamo visto anche in altri progetti. Quindi devono essere scelti con cura, tarati eventualmente con cura e anche collocati nella maniera adeguata, altrimenti potrebbero insorgere più danni che benefici. Il vantaggio di questi sensori è che attualmente generalmente costano poco, i loro prezzi sono andati giù molto, dipende anche dall'ascensore chiaramente, e sono più facilmente comunque implementabili nella rete, nella smart home di quanto non lo fosse in passato. Abbiamo molta più documentazione. Cosa sono in realtà? Sono dei dispositivi che rilevano i dati e li inviano attraverso una rete, la rete di comunicazione appunto. Che sensori possiamo usare all'interno di una casa, generalmente? Può essere interessante avere un sensore di temperatura, perché chiaramente vado a regolare la temperatura degli ambienti. Quest'anno, ultimamente poi diciamo che l'argomento è entrato pretentemente di moda, purtroppo. possiamo vedere l'umidità, quindi andare a regolare anche l'umidità, oltre che la temperatura degli ambienti. La luminosità, quindi posso anche creare una, diciamo, casa intelligente in cui vado a regolare la luminosità, anche a seconda, per esempio, degli orari o delle mie esigenze. Sensori di luminosità, di presenza, perché? Perché potremmo avere bisogno di vedere se, per esempio, c'è un'effrazione, e quindi voglio vedere se una persona estranea è entrata in casa, oppure se una persona, magari della famiglia, è presente in casa. Se è presente in casa, adotto certe misure, se magari esce, ne adotto altre, tipo, per esempio, posso abbassare la temperatura, oppure, ma rispegno di ventilatori, cose di questo tipo. Apertura Varchi, beh, l'abbiamo capito. Uno sguardo alla sicurezza, quindi rilevatori di fumo, di gas, questi forse fra un po' andranno in disuso, adesso vedremo, vedremo come andrà a finire, fiamma, vento, pioggia. Vento, pioggia perché uno dei collaboratori, per esempio a casa, ha un sistema per cui se si alza il vento oppure se sta arrivando la pioggia, automaticamente vengono chiusi i serramenti con, diciamo, una, come dire, implementazione automatica, quindi se sono andato fuori, c'era bel tempo, ho lasciato magari una finestra aperta, ecco che la smart home si accorge che sta per arrivare un temporale, arrivare pioggia e automaticamente prende le decisioni, diciamo, per noi. Elementi tossici, altra cosa importante, io potrei avere la presenza di elementi tossici in casa e quindi viene dato un allarme e posso, mediante dei filtri, per esempio, andare a filtrare il tutto. Veniamo alla centrale di automazione, in realtà qui diciamo che ha lavorato soprattutto un informatico, tra i nostri collaboratori, avvamo in cinque progetto, quindi siamo divisi i lavori. Per quanto riguarda la centrale di automazione, abbiamo delle soluzioni che abbiamo adottato, generalmente utilizziamo il mondo Raspberry. La figura qui è abbastanza, diciamo, esplicativa, perché vedete in fianco, per esempio, c'è un microprocessore, un ASP e ci sono delle lampadine intelligenti. Si possono programmare dispositivi, generalmente in linguaggio C o C++, altre volte in Python, a seconda un po' delle esigenze di ognuno. Noi alla fine creiamo delle reuse, delle regole, e questa è programmazione alla fine, cioè ci sono dei sistemi per poter dare delle regole alla casa per cui si comporta a seconda poi di quello che dice la sensoristica. Noi abbiamo tante soluzioni, forse le avete anche viste nelle pubblicità, c'è Apple, c'è Google, sono soluzioni proprietarie. Noi però come progetto siamo open source, open hardware, open software, per cui tutto quello che abbiamo fatto, intanto è documentato, può essere scaricato tranquillamente, e se c'è qualcuno che magari è interessato ci può anche fare delle domande, diamo anche delle risposte, funziona un po' da hub per risposte, e ci basiamo su un software libero. Ne avevamo scelti due, open hub e home assistant. Sono quelli che vanno per la maggiore come software libero, poi ci sono software proprietari, però noi abbiamo avuto questa impostazione libera, quindi non li abbiamo considerati. Noi abbiamo sia un esperto di open hub, qui Yuri, e un altro di home assistant, quindi se siete interessati, o magari siete già impostati, verso uno o due soluzioni avrete comunque una risposta. Generalmente però poi lo sviluppo l'abbiamo fatto con home assistant, dopo una serie di riunioni, e abbiamo ponderato bene, per così dire, la scelta. Vi lascio un attimo leggere. Beh, questi sono degli esempi che ci fanno capire cosa significhi smart home. Un esempio di automazione è questo. Dopo il tramonto irriga il prato se non è prevista pioggia. Capite che è un po' diverso da ho il mio bel prato con il mio sistema di irrigazione, con quei benedetti sistemini a orario, per cui alle 8 di sera parte fino alle 9 di sera, un'ora irrigo il prato, mi capite? Questa è comunque un'automazione, si può dire che sia domotica, ma non è smart. perché dopo il tramonto, perché io avrei bisogno magari di irrigare non sempre alle 8 di sera, potrei per esempio dire dopo il tramonto fammi irrigazione, e il tramonto non è sempre alle 8 di sera, giustamente. Quindi mi serve un sistema smart per capire cosa significhi dopo il tramonto. Irriga il prato se non è prevista pioggia. e qui abbiamo un'impostazione smart, ma anche green. Green perché chiaramente parliamo di prato, no? E perché? Se è prevista pioggia, forse è meglio non andare a irrigare il prato, perché sprecheremo acqua. Ok? Perché in effetti anche l'acqua sta aumentando, non so se avete visto, io ricordo le bollette di tipo 30 anni fa, l'acqua non costava niente, adesso costa sempre di più, no? Capite che allora qui c'è bisogno di una programmazione ben più complessa dalle 8 di sera alle 9 di sera per un'ora irriga il prato. Questo è un altro esempio. Si parlava di presenza, non rilevare la presenza, non solo di un intruso che vuole portarci via la bicicletta in fibra di carbonio a 5.000 euro. Sì, succede. Ma presenza anche di una persona, no? Dentro in casa, allora attiva un sistema di filtraggio dell'aria, ok? Ma solo se è presente la persona, se non lascia perdere. È un esempio. In soggiorno e in cucina, quindi non in tutta la casa, quindi potrei anche dividere la casa in settori e la smart home riesce a gestirli. se ci sono troppi allergeni, cioè non farlo sempre, farlo solo quando serve. Sempre per risparmiare il filtro, per risparmiare l'energia elettrica. L'ultimo non è mio. Questo esempio alla fine io l'ho scritto, ma l'ho assolutamente copiato da una soluzione già pronta che funziona a casa di uno dei nostri collaboratori. Lavorava con me fino all'altro anno, poi purtroppo è fuggito dall'altra parte della strada, è andato a liceo scientifico perché è di San Donà. Però continuavo a vederci insomma ogni tanto. Lui ha detto che ha fatto un avvicinamento a casa. Si saranno 20 metri, però lui dice così, vabbè. È un tipo spiritoso. Cosa ha fatto a casa? Cosa ha realizzato? Proprio questo. Questo è un esempio di automazione. riconosci il proprietario che arriva a casa in automobile. Quindi io sono il proprietario della mia casa, arrivo a casa con la mia automobile, il sistema riconosce che sono io con la mia automobile. A quel punto ho detto sì ma come fa? Eh, leggo la targa. Quindi lui ha una telecamera che va a leggere la targa. Ma, gli ho detto se arriva qualcuno con la tua targa disegnata, e lui ha detto che ha tutto un sistema anche il suo smartphone, eccetera, eccetera, quindi è una cosa abbastanza complessa per far sì che anche se uno è molto scaltro e furbo non riesca a buggerare il sistema. E mi fermo qua perché dopo queste sono cose che potreste anche domandare a lui in maniera più specifica. Apri il cancello esterno, quindi quando lui arriva automaticamente si apre il cancello esterno, automaticamente non arriva e preme il tastino come siamo abituati. No, il sistema fa tutto già da solo. Il garage, quindi in pratica un sezionale che ha, disattiva l'allarme perché nel momento che sto entrando è meglio che disattivi l'allarme, no? E l'ultima frase è bella. Accendi le luci guida se è buio. Quindi se è di giorno non le accendi perché dobbiamo risparmiare l'energia elettrica. Ok? Capite che tutto questo sistema è smart. È più complesso rispetto al arrivo e schiaccio il tasto. Posso fare la stessa cosa, comunque anche con sistemi più vecchi, però qui c'è un'automazione molto interessante che posso anche variare a seconda delle mie esigenze. E quindi è un po' come in pratica programmare un sistema. Qui vi ho messo un esempio di smart home. Come vedete c'è la possibilità appunto di aprire un sezionale. C'è il discorso della gestione dei termosifoni, la gestione per esempio intelligente della lavatrice e così via. Sono due cose come il frigorifero, l'illuminazione. Ecco, un'altra cosa per esempio le serrande oppure le tapparelle. Vi dico che a casa sto facendo ristrutturazione con molta fatica ho fatto mettere su le tapparelle elettriche proprio perché poi voglio inserirci questi microprocessori che abbiamo visto prima, gli ASP32 che poi vengono collegati via wifi e la centralina e quindi in pratica posso per esempio alzare le tapparelle alle 8 di mattina ipotesi tutte senza dover andare a premere il pulsante ogni volta. Si possono realizzare anche automazioni più complesse. La sorveglianza perché vedete che c'è anche una telecamera e quindi posso anche automatizzare la sorveglianza per cui per esempio il nostro collaboratore ma anche Yuri credo hanno una app sul cellulare questa app è scritta o in ambiente diciamo home assistant o open hub e loro con questa app possono andare a interagire con la casa anche se sono distanti e posso ricevere tutta la messaggistica vedere a video quello che succede però è tutto open quindi è tutto programmabile alla persona e questa è anche una gran soddisfazione. Qui sulle telecamere abbiamo proprio comprato recentemente dei piccoli diciamo sistemi con questi ESP32 che hanno il loro già programmatore pronto eccetera e hanno anche la telecamerina per poter quindi fare un'analisi anche video. La cosa che mi ha sorpreso è che tutto questo sistemino che è piccolo così forse ne è uno anche qua da qualche parte costa 10 euro cioè sono cose assurde 10 euro è il nulla e quindi sono sistemi che poi si alimentano con una batteria e hanno un consumo veramente irrisorio li si possono anche attivare a seconda li possono anche invernare e così via e quindi io posso realizzarmi un sistema di videosorveglianza spendendo veramente pochissimo è chiaro ci sono dei sistemi già pronti commerciali che sono molto efficienti eccetera eccetera ma parliamo anche di costi e poi noi come diciamo personaggi open abbiamo proprio il piacere di costruirci le cose è anche molto formativo è anche divertente ok questo quindi è un esempio di smart home vedete che poi in alto ho messo proprio il simbolo la simbologia di uno smartphone proprio per indicare che tutta la casa poi può essere diciamo comandata vista controllata con appunto lo smart phone ok io intanto vi ringrazio posso intervenire allora questo è un esempio di presentazione che andiamo a fare in giro per il territorio chiaramente è una presentazione molto base dove alla fine la maggior parte di persone che sono qua immagino che sappiano già che cos'è open hub e cos'è home system magari ce l'hanno già magari ce l'hanno già anche installato però è il lavoro che stiamo facendo dicendo che esistono soluzioni di software libero che sono competitive con mercato se non migliori se non è tutto personalizzabili dove comunque questa è divulgazione informatica free e open diciamo di base detto questo siccome adesso le presentazioni erano due però in realtà penso che a voi interessi di più la parte tecnica noi abbiamo oltre a questo tipo di presentazione che comunque è un esempio di quello che andiamo a fare abbiamo preparato un pannello dimostrativo della casa perché quelle due lampadine che vedete lì in realtà sono collegate a un sistema di tipo home assistant quindi queste ce le portiamo nel bagagliaio diciamo che le abbiamo prodotto qui questo pannello nel senso che è un pannello dimostrativo fatto di due strati dove si sta giusto nel bagagliaio in una macchina quindi si riesce a portarlo in giro nelle varie palestre digitali per far vedere come funziona è anche tutto sviluppato i disegni tutto quanto in chiave open source quindi uno lo vuole rifare a casa o gli serve in chiave didattica dimostrativa lo può rifare pari pari con me quindi dedicherei il tempo più che altro a vedere questi sistemi perché poi in salsa diversa adesso non stiamo più di tanto ad approfondire comunque abbiamo fatto anche quell'altro sistema dov'è è lì dentro se lo saluti di fuori Roberto questo è un sistema di una centralina che è nato per caso perché poi parlando con le persone da cosa nasce cosa come diceva anche una cara persona che conosco e di base poi cosa è successo che in una di queste palestre digitali c'era la sede del biodistretto dell'evento orientale che è in pratica un consorzio agricolo di circa una ventina di aziende che coltivano la vite soltanto come criterio biologico quindi con la certificazione che sia vino biologico per fare questo loro hanno delle centraline sul territorio perché devono raccogliere i dati per minimizzare il numero di trattamenti ovviamente perché meno trattamenti fai meno diciamo più risparmi anche in termini di concemi che devi buttare ma soprattutto meno vai a inquinare il prodotto se no non ti danno più il certificato quindi loro avevano praticamente centraline proprietarie nel loro caso prodotte da un'azienda mi pare austriaca non lo so comunque molto costose e ne avevano un certo numero anche abbastanza limitato perché comunque essendo costose erano limitate quindi ci dicono il nostro territorio che poi è qui nel portoguarese in realtà abbiamo un problema in cui la terra è molto diversa da da fascia a fascia perché per motivi geologici a distanza di 200 metri hanno una terra diversa che quindi richiede anche trattamenti diversi ci piacerebbe avere più centraline però costano allora siamo entrati nell'ottica pannello home assistant ma per applicare tutto questo anche raccolta dei dati di tipo di tipo di sensoristica sull'ambiente poi c'era il problema in trasmissione quindi si è aperto tutto un capitolo che riguarda l'ora perché abbiamo deciso poi di adottare come protocollo di trasmissione l'ora one e quindi poi qui abbiamo anche un gateway questo praticamente è il prototipo di centralina per raccolta di dati come vedete è fatto col tubo della Gavis quindi super economico i sensori abbiamo preso quelli la miglior resa e con il prezzo più basso che si trovasse e qui c'è l'igrometro l'anemometro i vari sensori di temperatura eccetera i pezzi questi pezzi sono stati disegnati da noi e prodotti con la stampante 3D quindi questo è un prototipo funzionante sviluppato qui con la stampante 3D e pronto per essere prodotto anche in piccola scala e poi in tutto questo parla con abbiamo il gateway che è lì se lo fate vedere che poi anche in questo caso un raspberry con tutti i moduli di comunicazione e l'ora eccetera 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 quindi senza star lì magari a fare una presentazione di base direi che da qui fino alle 5 che poi ci sono gli altri talk chi è interessato oltre ad andare a prendersi magari una birra può fare domande a loro su questi sistemi perché poi due parole magari le diciamo no Roberto sulla parte di Arduvino abbiamo chiamato Arduvino anche quello come gioco di parole per farlo meglio capire ai nostri amici del biodistretto e se dici due parole sullo stack dopo di che chi vuole Yuri penso che sia disponibile a fare delle demo del pannello di Home Assistant e poi Roberto invece le demo di Arduvino massimo una mezz'oretta così avete modo intanto di vederli e poi loro si fermano ancora un po' e potete comunque contattarli e contattarci anche in un secondo in un secondo momento quindi Roberto Roberto è un altro prof del liceo dell'ITIS scusa ho detto un'eresia dell'ITIS voi in terra vieni Roberto diciamo le parole sullo stack che è stato utilizzato su Arduvino allora ciao a tutti intanto abbiamo già raccontato vagamente come è realizzato il totem l'abbiamo chiamato così con tutti i sensori ecco io mi sono occupato dell'aspetto invece successivo nel senso tutti questi dati avendo individuato appunto un'azienda più di un'azienda interessata a questa cosa il tutto funzionerebbe di suo utilizzando il sistema allora noi abbiamo usato dei thing stack come diciamo portale ecco dove tutti i nostri dati vanno a finire in questo portale cosa succede però che gratuitamente i dati hanno una permanenza limitata alla settimana quindi parlando proprio avendo individuato qual è il nostro il nostro utente perché il giardino di casa probabilmente i dati settimanali sono già più che sufficienti nel senso vedo che c'è poco terreno poco bagnato so che devo in tempi brevi annaffiare il giardino invece il problema è l'azienda l'azienda ha bisogno di conservare nel tempo i dati perché può fare un confronto con gli anni passati può fare delle previsioni per il futuro e così via e quindi il problema nostro è stato quello di individuare un modo per mantenere questi dati però spendendo il meno possibile perché l'idea è sempre quella e quindi ci siamo rivolti abbiamo noleggiato un server ok virtuale quindi noi paghiamo un piccolo canone di 5 euro 5 dollari mensili su DigitalOcean sul quale abbiamo installato il nostro server Linux abbiamo installato un sistema che ci permette di acquisire questi dati e conservarli quindi abbiamo pensato di utilizzare per la visualizzazione Grafana perché è uno strumento abbastanza conosciuto abbastanza in uso in questo momento e abbiamo usato InfluxDB come gestore database perché InfluxDB è non un database di tipo SQL o che ne so di qualsiasi altra natura il motivo sta sempre nella tipologia di dati i nostri dati sono dati temporali quindi ogni valore deve essere associato a che cosa? ha una precisa data e un preciso orario Influx lo fa già di suo quindi non serve stare lì a preoccuparsi di creare il sistema per aggiornare la data l'ora e i secondi e così via quindi Influx siamo partiti da là e abbiamo creato appunto questo lo stack che si diceva quindi abbiamo creato un collettore di questi dati dall'ora verso Influx e abbiamo utilizzato Telegraph ok poi abbiamo usato Influx e da Influx ci siamo spostati verso il nostro server che si trova negli Stati Uniti da un'altra parte del mondo i dati sono accessibili sono visibili il bello che questi dati sono in formato open source quindi possono essere scaricati in formato o Excel o ODA in formato diciamo Libre Office qualsiasi cosa possono essere messi in un foglio di calcolo perché? perché l'azienda utilizza dei fogli di calcolo per fare queste analisi hanno semplicemente dei fogli di calcolo quindi era inutile utilizzare sistemi più complessi più complicati perché appunto questo è stato il ragionamento che abbiamo fatto insomma questo è un po' quello che abbiamo realizzato Sì la roba interessante dopo facciamo davvero questa demo live per chi vuole si sposta di qua per chi vuole si sposta di là è che poi questi dati in realtà a queste aziende non interessa tenerli per se stessi perché loro serve semplicemente loro in quanto consorzio li raccolgono poi li mandano a dei degli agronomi che pagano quindi loro hanno a libro paga come consorzio degli agronomi e gli agronomi gli fanno di settimana in settimana il volentino dei trattamenti e loro dicono a noi non interessa che questi dati rimangano chiusi possono rimanere anche aperti possono essere anche visibili addirittura i bollettini possono essere pubblici quindi l'idea è uno dei passaggi che stiamo facendo adesso parlando anche con i vari sindaci è quello di dire va bene allora a questo punto se queste centraline un giorno andranno in produzione chi lo sa e come nessuno lo sa a quel punto raccogliamo i dati li facciamo diventare anche open data e quindi a quel punto il cerchio si chiude in sostanza perché comunque diventano dati storici si diventano disponibili a tutti utilizzabili da tutti e anche chi ha la vite a casa nel giardino di casa può usufruire dello stesso bollettino fatto dagli agronomi e che hanno praticamente che hanno che sono pagati da questo consorzio a livello professionale certo ci potrebbero essere delle cose tipo free riding tipo l'azienda dei comportamenti diciamo di opportunismo tipo l'azienda che non è iscritta al consorzio e non contribuisce agli agronomi e si prende comunque il bollettino però queste sono problematiche di cui si vedrà che non sono ancora state previste e affrontate anche perché materialmente non succedono quindi chiuderei così a livello di overview di video